E' stato travolto dal crollo di un azolaio di un capannone di Santa Barbara, frazione del comune di Cavriglia, che non gli ha lasciato scampo a perdere la vita a un uomo di 59 anni. La vittima, Davide Stagi, artigiano del ferro, era andato in pensione un mese fa a Pari, si stesse occupando di alcuni lavori di riadattamento del magazzino. Domenica, poco prima delle 13, nel capannone, che si trova a pochi passi dalla centrale elettrica dell'Ener, è venuto giù tutto, il solaio con gli attrezzi e il materiale che c'era dentro, un volo di 3 metri. Il 59enne è stato trovato sotto le macerie del solaio in cartongesso, andato distrutto. Pare avesse deciso di recuperare un pesante macchinario per il taglio del materiale ferroso. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma anche il personale del servizio prevenzione e infortuni sul lavoro dell'ASL. Adesso dovranno essere ricostruite esattamente le dinamiche della tragedia senza testimoni. L'esito dei rilievi sarà trasmesso in procura dove, come accade sempre in questi casi, sarà aperto un fascicolo per far chiarezza sull'incidente.